Ancora una svolta nel processo per l'aborto di Martina Rossi, la giovane studentessa Ligure, precipitata dal balcone della Camera 609 dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca il 3 agosto 2011. A seguito di quel dramma sono finiti sul banco degli imputati due giovani aretini, Luca ed Alessandro, accusati di morte in conseguenza ad un altro reato, la tentata violenza sessuale. Per la pubblica accusa Martina infatti sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro, per la difesa invece si sarebbe trattato di un suicidio. Adesso è arrivata dunque l'ennesima svolta in questa lunga vicenda giudiziaria, mentre accusa difese parti civili si stavano preparando per andare verso la formula della rogatoria internazionale classica. Dalla Danimarca è arrivato l'ok per l'audizione attraverso una videoconferenza dei due testimoni scandinavi. Si tratta degli ultimi testi dell'accusa padre e figlia che nella notte in cui si consumò la tragedia si trovavano nella stanza accanto alla 609. Uno dei due avrebbe sentito prima un urlo per l'accusa quello di Martina e poi un rumore di passi precipitosi per le scale, quelli di Alessandro sempre secondo chi indaga. L'autorità danese ha fatto sapere che è disponibile a sentire i propri testimoni tramite videoconferenza, che è questa modalità che da qualche anno è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, che consente sostanzialmente un'interazione rispetto alla rogatoria ordinaria che viceversa è una contraddittoria indiretto perché io consegno delle domande al tribunale e poi l'autorità danese che le pone. Invece in quest'altra maniera c'è un contraddittorio che tramite le apparecchiature tecnologiche consente in sostanza di simulare quello che avviene in un'aula d'udienza. Per la videoconferenza è stata già fissata una data disponibile, ossia quella del prossimo venerdì nell'aula attrezzata del Tribunale di Perugia, ma l'ufficialità arriverà solamente domani.